ciao a tutti ragazzi qui è bluelight e benvenuti oggi in questo nuovo video su questo nuovo gioco che cazzo di sega che io li sto vivendo ti giuro ho detto tanto mo lo faccio easy invece no l'ho buttata proprio fuori allora ragazzi siamo qui su rocket league insieme a ho stagera la stessa macchina è un gay di là stiamo facendo due contro due abbiamo qualche giorno questo gioco ma ci vede come si gioca però siamo già dei pro player e adesso siamo già 1 e 0 pulito allora vedi così si segna ah si si grazie siamo contro il noto e ca che i brazen rider che cazzo non è vai vai corri e mia e mia e mia no me l'ha presa allora dato che è il video mio ti faccio segna a te no perché mi sembra giusto e comunque naturalmente quando registro faccio pena poi però in realtà e tanto vedranno la seconda parte sul mio canale aia aia quindi e si si appunto sul canale tuo poi il gioco è aspetta 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 e come la metto da qua guarda e non messa ma basta toccarla tu eraviglio ma che toccarla non l'hai messa e guarda e guarda non l'hai messa guarda e entrava ma cosa no no però vabbè la salvava uh sterzata tattica corri 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 no di lato confi confi piu wiii prendila prendila oh vai 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 il turbo no è mio il turbo fuddi vai 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 va vai 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 fallo fallo ecco quanto ci cato fame oh ma spinto via aglio 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 ok e così invece la metti a loro è piaciuto sì ma che guarda che bestia è dannata e mi spinge a me ma donna è il 2 contro 2 non sono abituato s'abituato al 3 4 3 e 4 4 4 tutti 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 sul tetto tostano la toglia una stersata no 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 piatta bravo 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 death player ragazzi che guarda come io ho messo eh volete prova a recuperare però tranquilli ci pensa lui che la mette lì è angolino perfetto è precisa o stai dietro vai vai no 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 con calma con calma vado io ok zitto da voltaccio proprio ma gli è beggi stai e no e fa culo stavo lì poi ho visto alla gira 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 si si è già e che giocatore allora per vedere blue light che gioca bene andate sul canale di ghianno in descrizione così poi quando caricherà il suo video vedrete quanto sono forte realmente stasera 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 no c'ho problemi connessione ah ok la difende aio mi hai tirato una crocca l'assurda pure presa pure presa mentira in mezzo ecco la troppo veloce la spazzata è andata eccola ma che cosa la dove avevo presa nettamente io da sotto No, guarda la macchina Sta mancata in sopra E la spazza blu light Gli ultimi 6 secondi Strogo generale Prende il turbo Io vado sulla gabbia Ok, la prima partita La prima partita di prova Intanto ho sbloccato gli adesivi per la macchina Facciamo pronto, cerchiamo subito Ok ragazzi, seconda partita Adesso abbiamo la macchina blu Tutta blu lightosa Eppure notti, what the fuck Dio blu light La mina No Uuu, blu light la prende con la parte sotto Incredibile Bo, 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 ha arrivato Doku Da una botta assurda Dove fa' sta palla Uuu, la scaglia Uscita, uscita Con calma, con calma Ripartiamo, ripartiamo Uuu, la botta in me No, questo è retromarcia Me l'ha preso Vai, l'aspetta No, arriva niente Guarda che l'hanno segnata Oh La stava a mettere male Arriva blu light Uuu, no, pallo Non me l'aspettavo qui Lo cazzo sta Eccola, 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 eccola TAAH Gheeeh Mica entrava sta cacchio di palla Qua, qua non mi l'aspettavo Da durando Poi qua non la vedevo E poi BAMMA La grossa di palla Con calma, con calma Schemi, schemi, schemi Schema, schema, schema Schema 18 Bravo, questo è lo schema Schema 18 vuol dire Prendimi, dammi una botta e allontanami Così poi io vado in difesa e salvo palla Esatto, bravo Gol Ci vado io, ci vado io a metterla Nooo Ma non La stavi a metter Eh, per favore, sì Bravo Mi è stata male Uh, sforbiciata Grazie Corri Nooo Euro turbo Uuuu Gli annoni Ripartiamo Vai così Schema 2 a 0, 2 a 0 Schema 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 Jan difende Bluelight colpisce Uh, uh, se lo sbagliavo Giurato Chiedevo il canale, eh Cioè, lo chiedevo Bas, così Bravo, bravo Eh, cosa? Eh, cosa? 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 Niente, niente No, non l'ho preso Sì, sì, sì Dai, dai La sfiatta Riparte Bluelight, così Si ferma, difende 1 3 a 0 Di Bluelight Qua c'avevo 4 di turbo 4 L'ho usato per spostare la palla Oddio, uno a sinistra e uno a densa stavano Fuck this shit Il poker di Bluelight Maddoh no Che si riscatta per la partita precedente Ike di Popolu Ha abbandonato uno Schriamo Oddio Centraggio Schioppato qui Non c'era quasi Ops Mi dispiace Noo Noo Ma non c'è Disibilità Disibilità Disabilità Per la chat Ecco E andremo a tagliare questa parte di video Ike di Ma stai a coglione Basta che metti il Blur Testa di cazzo Che metto io? Il Blur Sulla chat Che metto io? Ah si certo Oh quello ne porno La censura Ho messo Noo Cosa Cristo ha parato sto strozzo Non c'avevo il turbo ma mi sei bevuto Dai guarda come io ho messo a bene Mi son messo davanti a lui che aveva appena preso il turbo Infame Mi ha salvato Che guardia Boh Boh Qu'è il tacco Sì Quinto call di Bluelight Siete pronti Guarda guarda che tacco Boh Cioè Ciao Nemmeno Meggiorinio Noo l'hai messata male Oh Ma l'ha stava sbagliata Guarda Tu va bene l'hai riusciata Però poi guarda E Stava spostata là Poi arrivo io Ma l'ha stava a mettere io Stava a mettere pure questo Eh si Devo segnare solo io Dette questa partita Devo fare pure l'altro Palla Guarda se gli ultimi 15 secondi dovemo via gli altri due colla La vado a mettere Oh la salva Vai 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 No Pure io guarda me l'ho messo davanti a te Stava dietro la palla Cappello a cilindro Allora questa è la mia macchinina Comunque non ve l'avevo fatta vedere Coi dischi blu E poi Il giallo Lui invece è un pappone Che c'ha la corona Appunto proprio da pappone Però io Io c'ho le ruote coi soldi E il cappello da guardia Che vuoi mette? Che vuoi fa? Che guardia fa? Poi tu c'hai il trattore dei misseri Quindi vabbè Oh qualcuno no Ho stato io Ho stato io Ho stato io Su Rocket League Quindi ragazzi Per questo video di Rocket League è tutto Spero vi sia piaciuto Vi ricordo di lasciare un mi piace Di commentare Di condividere questo video Iscrivervi al canale Se l'avete ancora fatto Canale di Jan In descrizione Per un'altra partita Sul suo canale Su Rocket League E c'è sulla macchinina Per il link Della partita No perché Gli sommetti Si dove Non è vero No no Su serio Quando ho iniziato YouTube Non lo sapevo fare Però posso Lo fare Si doveva in descrizione Instant game in descrizione Pagina Facebook In descrizione Quindi Ciao a tutti da Bluelight Ciao a tutti